CINICO E IMPROGLIONE Io sono un disgraziato. 100.000 lire. Me l'aveva dato quel povero avvocato Borghesio per il figlio. Io per radunare quelle 100.000 lire ho dovuto fare un'ipoteca sulla casa. Senza nessuna coscienza morale. Le voglio fare una proposta. Vittorio De Sica in Il generale della rovere. Io avrei dovuto fare, come dire, lo specchietto per le allodole. Ora mi chiede di fare il cucino. Giovedì alle 20.55.